ok ragazzi siamo sul finire della tomba dell'assassino è arrivato il momento di buttarci palesemente giù magari da qui per andare a fare oddio pensavo andasse laggiù preso un colpo se abbiamo l'ado in ritardo lo sapete per andare a fare il ricordo della congiura dei pazzi credo che sia prossimo se non vado errato in questa firenze molto molto dark e per il teretano non si dice lupi travestiti dannelli ogni riferimento è puramente casuale dal nulla ci ritroviamo in pieno giorno eccolo lì ecco lorenzo e sua moglie ecco giuliano fratello di lorenzo ma dov'è francesco l'aveva per individuato mi sa che è ora di colpire per loro giuliano dei medici no giuliano madonna il sangue come era brutto nessuna pietà pane maledetto muori 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 per te è finita ormai lorenzo tutta la tua famiglia è destinata a perire per mano mia sapete che quasi quasi è divertente questo personaggio allora intanto cerchiamo di capire dove siamo 12 bersagli ce la facciamo dai fa il culo francesco dei pazzi boom fuori un altro 7 su 12 no eh tu arrivi tardi zio meccanisco contro di te posso? certo che posso ho preso così che poi in realtà nella coggiura vela dei pazzi non c'era nessuno a salvare lorenzo però vabbè non c'è o comunque se ci fosse stato qualcuno non c'era ezio superisci malissimo va bene come ti pare no come lo vorrei uccidere difendiamo lorenzo difendiamo lorenzo numero di non aver perso il mio smalto boom così da dietro ti debbo la vita neanche di più ma l'uomo che va fatto questo deve pagare non ora prima mi serve aiuto nella mia casa fra gente fidata puoi devo seguitemi sto perdendo molto sangue coraggio signore vado più veloce che posso no ufa non ho potuto che palle francesco de pazzi lo ucciderò lo ucciderò io lo ucciderò io francesco de pazzi lo ucciderò io non ti preoccupare osservate le forze o finirò per consegnare un cadavere ormai ci siamo quasi guai a voi se vi scontrate se no poi succede patatrack proprio nudo e crudo forza godo anche se ero ricercato scontro aperto come volete chiamarlo aprite la porta parola d'ordine poliziano apri questa maledetta porta per la vergine beata entrate svelti la città è in guerra presto aspetta ti sono debitore dimmi perché mi hai aiutato non siete il solo a cui i pazzi abbiano ucciso un fratello mi chiamo Ezio Auditore il figlio di Giovanni tuo padre era un bravo uomo tuo padre era un bravo uomo conosceva l'onore la lealtà i pazzi stanno assaltando il palazzo della signoria non riusciremo a respingerli a lungo no se riescono ad entrare uccideranno i nostri sostenitori e metteranno i loro cani al potere e sarei sopravvissuto per nulla io devo sta seduto devi sta seduto Francesco De Pazzi aiutaci a salvare la città auditore uccidilo 3.000 fiorini alla faccia grazie molto gentile e vabbè ragazzi andata grazie a tutti